L'M1 Garand è stato un fucile a ripetizione semi-automatica che ha rivoluzionato il modo di combattere della fanteria durante la Seconda Guerra Mondiale. L'M1 Garand era uno dei primi fucili semi-automatici ad essere adottato su larga scala dell'esercito degli Stati Uniti. Ciò ha permesso ai soldati di sparare ripetutamente senza doveri interrompere l'azione per ricaricare il fucile manualmente. L'M1 Garand utilizzava una clip di caricamento che conteneva otto colpi, che poteva essere inserita rapidamente nel fucile. Ciò ha consentito ai soldati di sparare più rapidamente e con una maggiore precisione, migliorando l'efficacia del fuoco di squadra. Inoltre, l'M1 Garand era affidabile e resistente, il che lo ha reso popolare tra i soldati in combattimento. Il fucile ha dimostrato di funzionare bene in diverse condizioni climatiche e di essere in grado di sparare anche in condizioni di sporco e fango.